uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi come ogni giorno in tempo reale il nuovo fortbite ci chiede di utilizzare il piccone vox per distruggere uno gnomo in cima ad un trono io non so in realtà se qua ci sia o meno uno gnomo ma so che la posizione esatta aspetta a killarmi è proprio quello lo gnomo lo gnomo lo gnomo ragazzi è proprio quello la piccolino come vedete come sta per fare adesso questo giocatore che cerca di distruggere lo gnomo riesce appunto nel suo intento e prende il fortbite quindi avete capito siamo nello spot delle pallette la posizione è proprio questa io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo tra poco in live ciao 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 ciao